Eccoci ancora qui in diretta, abbiamo titolato questo spazio, Bitonto vince lo stesso, ne parliamo con il sindaco Michele Abaticchio, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi. E allora è sfumata la possibilità di poter diventare capitale italiana della cultura nel 2020, però non è sfumata l'ambizione, perché intanto tra due anni potete riprovarci, no? Sì, sì, assolutamente, anzi siamo obbligati, perché l'entusiasmo con cui la città si è riunita anche dopo dei momenti un po' complessi che tutti noi conosciamo, lo ha fatto intorno a un sogno, cioè quello di avere la propria città, la ribalta nazionale per motivi connaturati anche a quello che è il centro antico che noi riteniamo sia il più bello di Puglia, ma oggettivamente il secondo più grande di Puglia e comunque ricchissimo di palazzi rinascimentari e storici, ha riunito la comunità, una comunità che sembrava a tratti perduta e invece si è ritrovata in questo sogno nell'orgoglio di essere bitontini. È un'iniezione di fiducia a investire ancora più di quanto state già facendo nella cultura, perché siete arrivati appunto nella top 10 su 41 città, insomma è un bel successo, no? Sì, in realtà le città all'inizio erano 54, poi sono state superate varie selezioni, alla fine siamo arrivati tra i 10, ci ha fatto enormemente piacere essere l'unica del Meridione, isole escluse, è una città che merita molto ed è per questo che mi sono sbilanciato e subito dopo ho dichiarato che il dossier, grazie al quale siamo entrati in finale, il progetto di Bitonto 2020 si realizzerà comunque e posso anticipare anche che la Regione Puglia ci appoggerà in questo. Vedremo poi in dettaglio che cosa prevede questo dossier che avete presentato in occasione della candidatura. Vi godete per il momento la ribalta nazionale, la vetrina nazionale, come diceva lei, giustamente, finalmente, per fatti belli e non per i fatti che conosciamo, no? Che si riferiscono al 30 dicembre 2017. Sì, il premio delle 10 finaliste è quello, cioè non l'ha mai nascosto il Ministero, cioè quello di dare comunque un grande impatto pubblicitario alle 10 finaliste. Noi siamo entrati, per esempio, in un sondaggio nazionale del Touring Club, siamo risultati secondi tra le 10 finaliste per il gradimento da parte del pubblico. Abbiamo avuto spot che noi abbiamo prodotto per la nostra città, come le altre 9 finaliste, ed ha avuto un richiamo anche in reti nazionali, su Facebook, su siti internet, facendo un calcolo. Se avessimo dovuto pagare le inserzioni pubblicitarie di tutti i siti internet, i profili, le televisioni che hanno parlato di Bitonto in questi entusiasmanti giorni, beh, insomma, stiamo parlando di cifre che non ci saremmo mai potuti permettere. Il riflesso, l'effetto di questa vetrina è già tangibile a Bitonto? Sì, per esempio è venuto un emittente televisiva nazionale a farci delle interviste, ha trovato in cattedrale una coppia di milanesi che ha confessato di essere lì proprio perché era incuriosita di questa città finita tra, alla pari di Parma, Merano, Reggio Emilia, perché queste sono le finaliste a Grigento, insomma, è stato un bel momento. Solitamente, Sindaco, si dice che un euro investito in sicurezza è un euro guadagnato in cultura. Gli investimenti sulla cultura che Bitonto ha fatto, tuttavia, i recenti fatti di cronaca ci dimostrano che non sono stati, come dire, l'antidodo migliore per combattere la criminalità o no? Diciamo no parzialmente, nel senso che la parte del centro antico è stata sottratta all'occupazione criminale, quella che è stata celebrata nei corsi di questi anni, diciamocelo pure, è stata una componente anche importante per la mia rielezione di quest'anno, e la parte che non è stata toccata da questi gravissimi episodi è stata la parte che noi dobbiamo ancora andare a riqualificare, che riqualificheremo grazie a 9 milioni e mezzo di euro acquisiti tra appatto per le città e fondi comunitari. Gli appalti finiranno con i lavori inaugurati nel 2020 ed è per questo che noi abbiamo chiamato Bitonto 2020, non solo il dossier presentato per la Capitale Italiana della Cultura, ma anche il nostro intero programma di mandato amministrativo della seconda giunta si chiama in questo modo, il nostro nuovo piano urbanistico si chiama Bitonto 2020. Tra l'altro è stato proprio, come dire, oggetto di critiche anche il piano di ricocitura e di riqualificazione del centro storico, si è utilizzato come unità di misura una forma geometrica, quella dei cerchi concentrici, no? Sì, sì, è una delle caratteristiche principali del dossier, cioè quella di rendere l'offerta culturale a disposizione nel linguaggio di tutti. Spesso parliamo di periferie pensando alle parti fisiche, cioè quelle più lontane dal centro, dall'urbe cittadina. In realtà le periferie sono soprattutto mentali e quindi noi vorremmo che anche chi non si ritiene con basi cognitive idonee per gustare, godere di una mostra o di un festival, possa farlo attraverso l'interpretazione del linguaggio culturale ed è su questo che vorremmo andare ulteriormente ad investire. Il piano strategico della cultura prevede, come dire, una forma partecipata anche con i cittadini? Sì, sì, noi veniamo da una decina di forum di partecipazione in cui i cittadini e le associazioni hanno dato molto partecipate, hanno dato il proprio contributo ed è questo che ha costituito anche una buona parte di punteggio che il Ministero ha concesso al dossier e poi continua perché noi abbiamo il prossimo forum giovedì di questa settimana in cui i cittadini potranno continuare a dare i propri contributi perché, come abbiamo detto, quel progetto verrà realizzato. Possiamo dire architettura e olio e quindi food e cultura sono un po' la sintesi anche degli elementi più importanti per il movimento turistico. In questo dossier su che cosa puntate principalmente? Innanzitutto l'olio, ovviamente, il costituendo già finanziato Museo dell'Olio che verrà realizzato presso le officine culturali in cui i visitatori potranno comprendere cosa significa gustare l'olio extravergine d'oliva cima di Bitonto, nel senso senza, chiamiamoli così, inquinamenti di altri prodotti. Quindi lo potremmo dire ad occhi chiusi anche per il sapore particolare, si percepisce ancora di più e anche per la garanzia di qualità. È importante anche vedere come si produce perché alla fine uno acquisisce, gusta, però riesce anche a capire i sapori di una terra. Un'immagine molto bella mi fu regalata da un immigrato e disse volete fare integrazione, mettiamoci a tavola insieme, noi cuciniamo il nostro cibo, voi cucinate il vostro perché è attraverso il cibo che si fa la vera integrazione culturale. E non è ovviamente un concetto che esaurisce tutta l'immaginario dell'integrazione culturale, però insomma è una componente di importanza. È un buon inizio, sì, assolutamente sì. Allora, intanto sono state finanziate nell'ambito dei fondi destinati dal MIBACT due chiese, rientra anche Bitonto, la chiesa di San Giacomo a cui sono destinati 500 mila euro e 300 mila euro per San Giorgio Martire. Mi diceva prima della diretta che ci sono 54 chiese a Bitonto, il 20% è stato già restaurato, adesso è la volta di queste due chiese, insomma entro due anni per la nuova candidatura ce la farete? No, no, tutte le chiese non credo proprio, anche perché come è noto nella grandissima maggioranza sono della diocese che sta facendo invece un lavoro straordinario e che ci porterà all'inaugurazione del museo diocesano più grande in mezzogiorno, speriamo tutti tra aprile e maggio, noi ci abbiamo messo del nostro, continueremo a metterci, ma la dioce sta facendo questa opera straordinaria perché il nostro vescovo prima di andare via vuole inaugurare quest'opera che sicuramente resterà nella memoria di tutti i cittadini. Il disegno che vorrà, come dire, concludere e perfezionare entro la fine del suo mandato, quale sarà? Io vorrei che alla fine del mandato ci fosse il nuovo piano urbanistico generale che è chiamato Bitonto 2020 e che quella parte di centro antico, che è una parte in cui si sentono ancora periferia mentale e fisica, fosse rigenerata da quei finanziamenti, sono certi, li abbiamo già presi, dobbiamo solo andare ad appalto e completare i lavori, dopodiché sarà la cerniera che unisce il centro antico alla lama balice, perché noi abbiamo quest'altra caratteristica, abbiamo il parco di lama balice dentro il centro antico di Bitonto, che tant'è vero prima del Medioevo era rifugio spirituale. Un piano urbanistico generale che, immagino, si fondi sul recupero dell'esistente, ma anche sull'investimento sul mattone o no? No, noi cerchiamo innanzitutto di puntare alla rigenerazione urbana, quindi a ridurre... Che possono essere liquidi anche regionali, no? Assolutamente, a ridurre quanto più possibile il consumo del suolo e a creare più che altro un'integrazione nel patto Città-Campagna, che è un altro studio che fa parte integrante del Pug e che comunque c'è stato anche finanziato alla regione dall'allora Barbanente, il sessore dell'urbanistica. Allora, visto che siamo in chiusura e visto che state godendo di questa vetrina nazionale, io direi di sfruttare anche la nostra come vetrina per Bitonto, perché immagino che molti baresi conoscano pochissimo Bitonto, no? Nonostante siate ormai vicini di casa dei cittadini baresi. Assolutamente, devo dire che con Cortili Aperti, che è una manifestazione molto bella patrocinata dal Ministero dei Beniculturei, che facciamo a fine maggio a Bitonto, si aprono i 54 palazzi storici privati e pubblici, un po' di tutto, e devo dire che i cittadini baresi ci onorano della loro visita e presenza molto spesso. L'anno scorso l'ha inaugurata Antonio De Caro, quest'anno spero ci sia di nuovo e che poi vengono altre, diciamo, altre eminenti autorità culturali, i vari di cui vane molto ricca. E allora, fate una gita a Bitonto, come dire, ovviamente anche per assaggiare l'olio, che non è secondario rispetto alla cultura e all'architettura. Non mi esse che ringraziare il sindaco di Bitonto, Michele Abaticchio, grazie per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento torna più tardi. Arrivederci. Grazie a tutti.